Il 31 ottobre parte a Salerno la prima tappa di un progetto nazionale di educazione finanziaria. Un'opportunità per gli imprenditori e professionisti di approfondire le proprie conoscenze in materia di finanza. Finanza per le imprese, ma anche finanza per le famiglie e per i risparmiatori. Ne parleremo oggi con il presidente di Fede Terziario, Nicola Patrizzi, che insieme con Consob ha sviluppato questa interessante iniziativa. Il 31 ottobre, nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria 2019, parte il primo degli eventi Fede Terziario Consob dedicato all'educazione finanziaria per le piccole e medie imprese. Si tratta di un seminario totalmente gratuito, al quale si può partecipare registrandosi sul sito www.fernerizario.it e che apre di fatto un ciclo di seminari che ripeteremo in 15 città italiane nei prossimi due anni, accompagnato dai tecnici Consob che daranno testimonianza e formeranno associati professionisti e piccole e medie imprese sulle tematiche dell'educazione finanziaria, soprattutto su tutti i nuovi strumenti alternativi al canale bancario. Grazie per la visione!